come risolvere i problemi degli aggiornamenti riguardo a windows update di oggi ovviamente per quelli che hanno scaricato e installato l'ultimo aggiornamento su windows 11 hanno avuto problemi ovviamente se avete problemi di installare aggiornamenti automaticamente possiamo farlo direttamente manualmente però se non vuoi farlo manualmente andiamo direttamente nella cartella del software distribution di windows ovviamente vai su questo pc disco locale c scendi fino a giù fino a trovare così la cartella windows scendi fino a giù fino a trovare così il software distribution quindi in questo caso andiamo a trovare software distribution clicchiamo dentro il download qui vanno a finire dei vecchi aggiornamenti che avete scaricato e aggiornamenti che avete scaricato adesso però che non vanno quindi in questo caso andiamo direttamente a cancellare la cartella download e a fare continua una volta fatto chiudiamo un attimo qua e andiamo direttamente sui nostri servizi andiamo sui servizi scendiamo fino a giù fino a trovare così il servizio windows installer qui metti direttamente stato di servizio arrestato metti avvia avvia così lo stato di servizio di avvio se te lo fa cambiare metti manuale e fai ok poi sotto windows installer c'è scritto windows update ed eccolo qua ci clicchiamo sopra facciamo tipo di avvio manuale se non dovesse funzionare metti su automatico stato di servizio in esecuzione se il tuo windows update funziona possiamo riavviare così il servizio mettiamo interrompi tipo di avvio metti automatico è stato di servizio in esecuzione e fai applica e fai ok poi se non dovesse funzionare andiamo direttamente su cmd esegui come amministratore prompt dei comandi per fare un'analisi di integrità sistema vai sfc spazio slash scanno farà così una scansione quindi scrivi sfc spazio slash scanno e fai invio avvio in corso dell'analisi del sistema per capire se ci sono problemi sul sistema se non dovesse funzionare possiamo sempre risolvere il problema su risoluzione postazioni soluzioni problemi altri strumenti di risoluzione dei problemi ed eccolo qua windows update facciamo esegui qui farà un rilevamento dei problemi per capire se ci sono danni dei danni su windows update quindi non ci resta che aspettare la verifica ovviamente su prompt dei comandi la protezione di risorse di windows nessuna violazione di integrità trovata possiamo anche chiudere qua qua sta ancora facendo un'inizializzazione verifica la presenza di problemi windows update quindi provare e ripetere l'attività che significa seguire in precedenza rilevato il problema è stato risolto facciamo sì di strumento di soluzione dei problemi se mettete su no vi risolverà il problema ovviamente chiudiamo un attimo la scheda qua e andiamo adesso scaricare il nostro aggiornamento manualmente per scaricare e installare l'aggiornamento se vai direttamente su verifica disponibilità aggiornamenti ovviamente vai un attimo nella cronologia degli aggiornamenti se ti ha fatto scaricare e installare però l'aggiornamento per esempio qua errore dell'aggiornamento quindi non è possibile non è stato possibile installare l'aggiornamento questo qua facciamo che questo qua poi a copiare così il codice di comando fai copia e lo metti qua direttamente fai incolla e fai la ricerca e andiamo così a scaricarlo e installarlo manualmente ed eccolo qua non è ARM per 64 sistemi basati questo qua così facendo andiamo a scaricare l'ultimo aggiornamento e facciamo download aggiornamento deve finire come punto mso così installi il pacchetto pacchetto di installazione sul pc clicchi su punto mso scarichi così l'aggiornamento aspetta così download e poi installi il tuo aggiornamento quindi se hai altri problemi commenta sotto al video se ti è stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao